Sono state ridefinite le graduatorie per l'assegnazione delle case popolari del comune. Sono ben 454 i nuclei familiari in lista per un alloggio a canone d'affitto sociale e meno di 10 invece nella graduatoria per gli appartamenti a canone moderato, più adatto al ceto medio. Graduatorie riviste, sfoltite e diminuite negli ultimi anni dopo che l'elenco superava le 700 persone, ma ancora pesanti, dato che gli alloggi comunali già abitati sono poco meno di un migliaio. Il dato dei ricorsi, ben 37 di cui 35 accolti, dimostra la pressione degli aventi diritto sugli uffici. La situazione patrimoniale dei nuclei familiari interessati è pesante, visti i redditi da pensione minima o comunque la presenza di disabili o anziani. Fra i primi 30 in graduatoria, una ventina sono stranieri. Fra i primi 50 la presenza di italiani si è infittita rispetto agli anni scorsi. È il secondo bando emesso dal comune quest'anno con una prospettiva nuova, aperta dalla legge regionale 16, che parla di servizi abitativi, aperti quindi anche al privato, non solo al pubblico, e di una messa in rete sia dell'offerta che della domanda, per dare trasparenza al numero di alloggi effettivamente disponibili. La nuova normativa, che è stata criticata per la disponibilità verso gli investimenti privati, non ha ancora ottenuto effetti visibili a Cremona. Da parte propria il comune intende in ogni caso avvalersi del sostegno dei privati in tutti i settori, servizi sociali compresi. Dopo quasi dieci anni di crisi, con una ripresa ancora limitata, la spesa sociale vede alcuni settori in crescita, come la spesa per i minori. In questi ultimi giorni i servizi sociali, con una determinazione firmata dal direttore Lamberto Ghilardi, hanno stabilito la quattordicesima tranche annuale per pagare gli inserimenti di minori in strutture residenziali protette disposti dalla magistratura. Si tratta dei bambini che per i più svariati motivi non possono più vivere con i genitori, che si trovano in gravi difficoltà economiche e sociali. La spesa per questi progetti socioassistenziali è di ben 579 mila euro, in crescita rispetto agli anni scorsi, considerato il costo degli inserimenti in comunità. È uno dei segnali dell'emergenza sociale, che colpisce gli uffici pressati dalle richieste dei cittadini, così come la continua erogazione di bonus energia e gas, i contributi per la fragilità sociale e per l'erogazione di farmaci che non vengono più passati dal Servizio Sanitario Nazionale.